Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Aria più fresca continuerà a scorrere lungo il bordo orientale del vasto campo di alta pressione, fermo ad ovest. Ciò permetterà lo sviluppo di stabilità pomeridiana sotto forma di temporali, specie sui monti e lungo la dorsale appenninica. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 12 aprile. Giornata soleggiata al mattino con cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità sui settori interni con locali rovescio e temporali sulle zone interne dell'Appennino Lucano, più soleggiato invece altrove. Durante la sera tornano i cieli sereni. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, in calo nei valori massimi, stazionario in lieve aumento le minime. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, mari calmi o poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi vi proponiamo una foto mozzafiato che risalta le bellezze paesaggistiche e naturalistiche del nostro territorio, sullo sfondo la città di Altamura circondata da campi verdeggianti e dalle ferrule già in fiore. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo su nostre pagine facebook Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.